Estra al fianco dell'Arezzo Calcio Femminile, la Multitility Toscana sarà infatti sponsor ufficiale per la stagione 2024-2025, con il suo logo presente sul retro delle maglie da gara ufficiali della squadra. Perché è una sfida, nella sfida lo sport per noi rappresenta uno degli ambiti di maggiore importanza come marketing, come investimenti, come sponsorizzazioni perché comunica lealtà, competitività, tutti quei valori a cui crediamo e che vogliamo trasferire anche come azienda. Lo sport del calcio femminile è un settore speciale, sfidante, quindi complimenti all'imprenditore come Anselmi che ci crede e noi nel nome dell'inclusione vogliamo dare questo segnale importante su un ambito che è da specialisti, da appassionati veri, che vanno oltre il pregiudizio della tradizione calcistica e guardano queste ragazze che spesso sono più forti e combattivi di tanti calciatori che oggi guardano più a aspetti estetici o di gossip e che magari meno si concentrano nel lavoro. Rappresenta una grande dimensione perché è un'eccellenza del territorio, quindi noi siamo veramente onorati che un brand come Estra possa essere abbinato alla CF Arezzo che rappresenta appunto la città, il calcio femminile della nostra città e questo per noi è sicuramente motivo di orgoglio e una grande energia in più per tutti gli imprenditori aretini che appunto possono fare questa scelta per una progressione continua del calcio femminile. In realtà è in crescita quella del calcio femminile, appena iniziato il nuovo campionato di Serie B con quale auspicio? Il campionato è sempre più complesso, ogni anno che appunto parte ci rendiamo conto che la crescita è esponenziale e quindi noi ad oggi siamo riusciti a mantenere quel livello diciamo comunque importante dove ci giochiamo tutte le partite anche se ci sono grandi squadre organizzate per andare in Serie A. Noi ci vogliamo divertire principalmente.